Una vera e propria centrale dello spaccio è stata smantellata da Agropoli incontrata a Fuonti dai carabinieri della locale compagnia diretta dal capitano Francesco Manna. I militari hanno arrestato un 46enne pregiudicato del luogo perché responsabile di detenzioni ai fini di spaccio di stupefacenti. Gli uomini dell'arma nel tardo pomeriggio hanno sorpreso l'uomo già noto alle forze dell'ordine a bordo di un'autovettura Mercedes classe B, il quale alla loro vista tentava di darsi alla fuga lanciando dal finestrino quattro involucri contenenti cocaina e marijuana che venivano prontamente recuperati. I carabinieri, dopo aver bloccato il 46enne, hanno eseguito un'accurata perquisizione presso l'abitazione dell'uomo e le sue pertinenze che consentiva di rinvenire all'interno del garage circa 900 grammi di marijuana e nella cantina circa 600 grammi di cocaina. L'arrestato, originario di Castellabate ma residente ad Agropoli, dopo le operazioni di rito, è stato trasferito su disposizione della procura della Repubblica di Vallo della Lucania presso la casa circondariale del comune cilentano a disposizione dell'autorità giudiziaria.